Castel San Nicolò, Montemignaio e Poppi ci stanno, chiusi della Verna no, e questo in estrema sintesi il quadro della situazione sul fronte della fusione dei comuni in Casentino. A poche ore di distanza due prese di posizione diametralmente opposte riaccendono il dibattito sul tema. L'argomento è stato riproposto anche durante una delle ultime sedute della Giunta dell'Unione dei Comuni del Casentino. Da una parte i consigli comunali di Castel San Nicolò, Montemignaio e Poppi sono pronti a discutere della fusione nelle prossime sedute. Paolo Agostini, sindaco di Castel San Nicolò, preannunciato anche l'avvio di una raccolta firme come previsto dalla legge regionale per portare entro poche settimane nei consigli comunali una proposta di referendum popolare per la fusione. Un primo colloquio tra i sindaci ha portato alla volontà di iniziare un'analisi dei vari aspetti gestionali propedeutici al percorso di fusione. A chiudere la porta a questo percorso è invece il comune di chiusi della Verna. Un'emminente ipotesi di fusione non era nel nostro programma elettorale, in base al quale gli elettori ci hanno premiato, ha precisato Giampaolo Tellini. Il primo cittadino aggiunge anche che al momento non ha ricevuto proposte dai comuni limitrofi. Se ne verranno nel corso della legislatura bisognerà esaminarle attentamente e capire bene molte cose precise a Tellini.